E parliamo ora invece del Prato, Prato che vara il nuovo corso, intanto è arrivato un nuovo acquisto, il primo della gestione del presidente Nicola Radici, si tratta di Riccardo Martinelli, difensore centrale ex Rimini, classe 91, giocatore prestante e soprattutto un fedelissimo del tecnico Leonardo Acori. Questo Martinelli con la maglia del Rimini nella scorsa stagione con i Romagnoli ha indossato anche la fascia di Capitano. E per quanto riguarda il nuovo corso dirigenziale andiamo a sentire il vicepresidente Biancazzurro, Franco Tocci. Franco Tocci, vicepresidente uscente, poi vedremo quali saranno gli assetti societari, certamente quello che è accaduto è qualcosa di unico, è una svolta per il futuro del Prato. Sì, veramente è stata una bella svolta, se si pensa soltanto che un anno fa io ho presentato il progetto del Trust al Circolo di Coiano e sembrava quasi utopio che il Trust potesse arrivare in così poco tempo a avere la maggioranza, anche se io l'avevo preannunciato che in futuro questo sarebbe potuto accadere. È successo in un anno, io sono estremamente contento di questo perché sicuramente la piazza e i tifosi possano partecipare a quelle saranno le decisioni fondamentali per l'assetto societario, quindi per la costruzione della squadra partendo dall'allenatore e dai giocatori che eventualmente poi verranno scelti l'allenatore. Nicola la dice come presidente che secondo me è una persona adatta perché è una persona che anche se non è di Prato è molto legata alla città e al Prato e quindi credo sia stata la scelta giusta in questo momento di transizione. Quindi sono convinto che possa fare veramente bene a Prato. Franco Tocci farà sempre parte di questa compagine con un ruolo di socio di minoranza. Io sono socio di minoranza, probabilmente rimarrò vicepresidente e poi sono di supporto a Nicola se ne avrà bisogno, insomma io ci sono e sono disponibile in quello che mi viene chiesto, insomma io ci sono.